Mi sembra che la questione sia stata chiusa dal livello nazionale del PD che ha detto con chiarezza che bene si dimetta. È una condanna unanime quella che arriva dopo le dichiarazioni fatte al quotidiano Il Tirreno da Nura Museale, avvocato e componente della Commissione Pari Opportunità della Toscana, che si è detta a favore della presa del potere da parte dei fondamentalisti in Afghanistan, definendola una tappa obbligata della storia. Dopo gli attacchi e le richieste di dimissioni giunte da esponenti politici del centro-destra, il PD si è dissociato e ora anche le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità hanno fatto lo stesso. Quanto dichiarato da Nura Museali non rappresenta il pensiero della Commissione, che si batte da sempre affinché sia riconosciuto il ruolo delle donne in Italia e in ogni parte del mondo, soprattutto dove esistono regimi come quello talebano, hanno scritto in una nota. L'intervista rilasciata è stata a titolo personale, non concordata con la Commissione, per questo ci dissociamo. Intanto resta da decidere quale sarà il percorso per l'accoglienza dei profughi afghani sistemati negli alberghi sanitari di Montecatini per i sette giorni di quarantena. Ne erano attesi meno della metà e già questo è bastato per scatenare le polemiche. Ma la Toscana, dice il governatore Gianni, non poteva far mancare la propria solidarietà. Sono le persone che ci hanno consentito di lavorare e di operare in questi anni in Afghanistan e quindi in questo caso non si parla di profughi, si parla di persone che nel rispetto dei loro diritti di libertà e di valorizzazione della persona umana chiedono un diritto d'asilo che un paese civile, una regione di grande civiltà e tradizione come la Toscana non poteva non rifiutare.